Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Continua il corso introduttivo ad After Effects Quest'oggi vedremo che cosa sono e come funzionano i progetti modello Sono dei progetti sostanzialmente al 100% After Effects ma template Vale a dire che possono essere utilizzati senza distruggerli Senza che nessuno possa sovrascriverli accidentalmente Sono dei punti di partenza da cui iniziare a lavorare Anche senza conoscere bene come funziona After Effects Ne parleremo tra poco Prima però vi ricordo www.fabioambrosi.it Sito dove troverete tutti gli articoli e tutti i tutorial dedicati ad After Effects Trovate l'indice di questo corso per scoprire gli argomenti che tratteremo E trovate anche il corso dedicato ad Adobe Premiere Se volete approfondire quel bellissimo software per l'editing video firmato Adobe Vi invito ad iscrivervi a questo canale YouTube Per non perdere anche i prossimi tutorial E se vi fa piacere cercatemi anche su Facebook La pagina è Fabio Ambrosi Lì daremo tutte le novità mano a mano che usciranno nei prossimi mesi Nelle prossime settimane Dunque parliamo di After Effects Parliamo di template Dicevo che un template è un modello Vale a dire è un progetto a tutti gli effetti After Effects Come li abbiamo visti nello scorso video Ma con la differenza che non possono essere salvati Vale a dire che se date quel progetto template ad un vostro collaboratore Quello che deve fare il vostro collaboratore è solo cambiare un logo Cambiare un titolo Niente di più Senza il rischio che il vostro collaboratore vada a distruggere il template Senza il rischio che il template venga sovrascritto accidentalmente Questo è molto utile quando si lavora in tanti ad uno stesso progetto E quando a lavorare al progetto sono persone che magari non sono esperte tantissimo in After Effects E che non sanno come si fanno le animazioni Che non sanno come si fanno le cose che vedremo noi in questo corso Quello che dovrà fare il vostro collaboratore in questi casi è solo sostituire un logo Cambiare una scritta, poco altro Ed esportare Senza però salvare il template che deve rimanere pulito, intonso Così per essere utilizzato da tutti quanti Allora i progetti template in After Effects hanno estensione A e T Tutti i file con estensione A e T sono progetti After Effects a tutti gli effetti Ma template, quindi quando voi aprite un progetto template come ho fatto io qui in questo caso Con un template che ho scaricato da internet Quando andate a fare CTRL S Il progetto vedete che non può essere sovrascritto ma dovete crearne una nuova copia Quindi cambiate il nome e il vostro collaboratore in questo caso può cambiare il nome Premi salva ma non c'è il rischio che il template venga in alcun modo sovrascritto Questo è molto molto importante Online è possibile trovare tanti template gratuiti Questo per esempio è il template che io ho scaricato da questo fantastico sito Il link poi lo metterò nella descrizione di questo video tutorial È possibile trovare online tantissimi template gratuiti e a pagamento Alcuni sono anche molto costosi ma per quello che serve a noi è sufficiente accedere ai template gratuiti Per capire come i professionisti lavorano con questo software Scaricare il template Facciamo un esempio Navigo nella sezione dei template gratuiti Vedete c'è proprio una parte del sito chiamato Free After Effects Template Scelgo il template che voglio scaricare In questo caso questo Orbital Free Huge Logo Revealed for After Effects Quindi clicco Scarico Posiziono il file zip che vado a scaricare in una cartella qualsiasi del mio hard disk Navigo dove questo file è stato scaricato Io già l'ho aperto e l'ho installato Però eccolo qui Orbital Free Rocket Stack Had 1 Punto zip Vedete che quando vado ad estrarre questo zip Mi viene automaticamente creata una cartella Eccolo qua Vedete così come anche sono organizzati i progetti in After Effects Questo è il file di progetto template vero e proprio Vedete qui un'estensione A e P Invece che A e T Ma evidentemente questo è un progetto vecchio Che ancora fa riferimento a queste estensioni I progetti template in After Effects Oggi sono A e T Ok? Doppio clic sul file Vedete che ho degli avvisi Ma posso tranquillamente ignorarli E questo è un'animazione Già creata da qualcuno per mio conto Che io posso personalizzare come voglio Quando vado a premere i tasti CTRL S In questo caso Non c'è il rischio che sovrascrivo questo template Quello che posso fare è crearmi una copia del progetto Ma la cosa buona dei template è che non posso sovrascriverli Così che i miei collaboratori non corrono il rischio Di rovinare il template che magari deve essere utilizzato più volte Quello che possono fare i miei collaboratori in questo caso È però personalizzare questa animazione Quindi al posto di questa striscettina bianca Posso andare ad inserire ad esempio il mio logo Vedete che io qui ho una cartella In cui nei commenti ho le istruzioni Su quello che devo fare Vado ad inserire all'interno di questa composizione Il mio logo Non vi preoccupate se non capite bene ancora Quello che sta accadendo Lo capirete meglio nei prossimi tutorial Nelle prossime lezioni Ecco il mio logo Se torno alla mia composizione principale Vedete che il mio logo È stato automaticamente inglobato A questa animazione E senza che io poi debba capire Come in realtà Questa animazione è stata creata e concepita Questo è lo scopo dei tutorial Dei template Dei modelli template Dei progetti template Creare un punto di partenza Utilizzabili da un po' tutti Gli addetti ai lavori Senza però che chi ci deve lavorare Sappia come sia stata creata l'animazione E soprattutto Senza poi che chi deve lavorare A questi template A questi progetti Corre il rischio di rovinarli Di sovrascriverli E quant'altro Ribadendo Sono progetti template Tutti quei progetti con estensione A e T Progetti più vecchi Possono anche avere estensione classica A e P Però ecco lo vedete Un progetto template Perché quando fate ctrl s S sostanzialmente Non potete sovrascriverlo Erroneamente Dovete rinominarlo Per poter creare una copia del progetto E sono molto utili Perché ci permettono di poter far lavorare A delle animazioni A delle customizzazioni di animazioni E quant'altro Anche a chi magari non ha esperienza Con After E non sa esattamente come queste animazioni Vengono create e concepite Online si trovano molti 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 template gratuiti Scaricateli Nei commenti a questo video Ho inserito un link Dove potete trovare qualche template gratuito E sono molto utili Perché se volete capire Come è stato realizzato È un buon punto di partenza Potete vedere come dei professionisti Hanno lavorato per creare Delle animazioni apparentemente Molto semplici Ma che dietro hanno Una buona dose di lavoro Nei prossimi tutorial Vedremo come realizzarli noi I progetti After Effects Questo è un corso introduttivo Non impareremo a fare cose Troppo avanzate Ma sicuramente ci divertiremo www.fabiambrosi.it Per leggere l'articolo Associato a questo video tutorial Per trovare anche l'indice Degli argomenti Che tratteremo in questo corso Vi invito Se avete voglia Se vi fa piacere Anche ad iscrivervi A questo canale YouTube Per non perdere I prossimi tutorial E se vi fa piacere Cercatemi su Facebook La pagina è Fabio Ambrosi Lì troverete annunci Sulle novità Sui corsi Che faremo anche live Nei prossimi mesi Quindi Teniamoci in contatto Grazie E al prossimo tutorial Quando inizieremo Ad entrare un po' nel vivo E a parlare Dell'interfaccia Di After Effects Faremo un po' di passi indietro E ricomincieremo da zero Per capire Un attimino Che cos'è Quello che state vedendo qui Che cosa servono Questi pannelli E come orientarci Un po' in questo software Al prossimo video tutorial Ciao